Bentrovati, bentrovati ad un nuovo tutorial firmato fabbiambrosi.it continua il corso introduttivo ad adobe after effect quest'oggi vedremo come sia possibile animare le forme geometriche e vedremo come sia possibile animare praticamente tutti i parametri che compongono una forma geometrica è un corso introduttivo questo di after effect quindi se siete già avanzati questo non è un tutorial che serve a voi se però state seguendo il corso introduttivo ad after effect su questo canale youtube bene questa lezione è un po' un approfondimento rispetto alla lezione dedicata alle forme geometriche abbiamo già visto come si creano le forme geometriche abbiamo visto come si crea l'animazione in after effect come sia possibile modificare la posizione, la scala, la rotazione per creare l'animazione, animazione in after effect quest'oggi cerchiamo di andare un pochettino avanti per mostrarvi come tutti i parametri che hanno un orologino vicino al nome possono essere animati è un po' una dimostrazione pratica di quanto sia potente in questo senso after effect www.fabbiambrosi.it sito internet dove troverete l'indice con gli argomenti di questo corso oltre al corso introduttivo a premiere pro se avete voglia se vi fa piacere iscrivetevi a questo canale youtube mettete un like alla mia pagina facebook per restare in contatto e condividete questi video con i vostri amici per far crescere ancora di più la nostra community che ormai inizia ad avere dei numeri abbastanza interessanti via non dico tanto grandi ma comunque vedo che inizia a crearsi un piccolo gruppo di persone interessate a questi argomenti bene iniziamo subito quest'oggi ve lo dico subito creeremo un'animazione simile a questa trasformeremo un rettangolo in una stella niente di particolarmente complesso in questo caso specifico anche niente di particolarmente carino ma è solo una dimostrazione di quello che è possibile fare con le forme geometriche in after effect bene cancelliamo tutto e cominciamo da capo via bene creiamo subito un nuovo rettangolo una nuova forma geometrica rettangolo sapete già come fare se non lo sapete recuperate il tutorial dedicato alle forme geometriche su questo canale youtube creiamo appunto dicevo un rettangolo viene creata in timeline un nuovo livello un livello forma ecco qua ingrandiamo per far vedere a tutti e questo livello forma contiene all'interno un parametro chiamato contenuto o meglio un raccoglitore di parametri chiamato contenuto e al suo interno troviamo il rettangolo 1 che è il rettangolo che abbiamo appena creato lo rinominiamo premo enter sulla tastiera e do il nome che voglio per esempio prima forma tra poco ne faremo una seconda ecco perché espando ancora le proprietà presenti sotto prima forme prima forme no prima forma ho sbagliato a scrivere ecco qua e vedete che trovo altre sottocategorie e vado ad espandere tutto questo per mostrarvi quante siano le possibilità che abbiamo davanti no questi parametri come potete notare hanno tutti un orologino e quindi sono tutti i parametri che possono essere animati vedete sto continuando ad espandere è praticamente il limite qui è solo la vostra fantasia solo come piccolissima anticipazione c'è anche questo tastino chiamato aggiungi e questo tastino ci permette di aggiungere altre cose molto interessanti alle nostre forme geometriche tutto questo è animabile quindi potete capire bene quante possibilità abbiamo con le forme geometriche non limitate solo ad un rettangolo ad un cerchio ad una stella o a oggetti a mano libera che possiamo creare con lo strumento penna per esempio vedete no le possibilità sono praticamente infinite e possiamo fare quasi qualunque cosa con le forme geometriche ok questa è la prima è la prima parte del tutorial seconda parte del tutorial dimostrazione pratica di come sia possibile animare tutti questi parametri per esempio ipotizziamo di voler animare non so il colore di questo di questo rettangolo se io scendo sotto noto subito che c'è un parametro chiamato colore sotto al riempimento 1 dell'oggetto che abbiamo appena creato il colore è ovviamente bianco bene io vado a modificare questo colore da bianco per esempio a rosso e vedete che il colore di questo rettangolo viene modificato ma c'è il cronometrino quindi questo vuol dire che io posso animare questa transizione come fare? bene come abbiamo sempre fatto in queste lezioni aggiungo un keyframe cliccando sul cronometrino vedete che vi è raggiunto un diamantino in timeline vado avanti di qualche secondo cambio il colore a mio piacimento per esempio un bel verde via e guardate come venga creata la transizione dal bianco al verde ecco questo è solo un esempio ma ripeto io qui potrei animare quasi qualunque parametro anzi tutti i parametri che hanno l'orologino accanto al nome il limite dell'angolo le dimensioni la rotondità eccetera eccetera ma possiamo fare di meglio ipotizziamo di voler trasformare questo rettangolo in qualcos'altro no? io se vado su questo rettangolo con il mouse e clicco anche se clicco due volte non posso fare molto posso solo spostarlo al massimo posso scalarlo ma sono un po' limitato con le possibilità come fare per andare oltre? bene io potrei voler trasformare questo rettangolo in un tracciato besier questo cosa vuol dire? vuol dire che io potrei dopo aver creato questa trasformazione quindi trasformato questo rettangolo in un tracciato besier potrei voler modificare i punti che compongono questo rettangolo e quindi modificarne i lati trasformarlo in un poligono un po' più complesso vi faccio vedere cosa intendo allora partiamo dal principio rintraccio subito la voce tracciato rettangolo 1 è la prima voce che trovate sotto la forma geometrica appena la create questo vale per i rettangoli per i cerchi credo non vale per tutte le forme geometriche cliccate con il tasto destro del mouse scegliete la voce converti in tracciato besier ma apparentemente non è accaduto nulla è sempre un rettangolo ed è sempre qui pronto per essere animato ma se guardate nei livelli viene trasformata la proprietà tracciato in tracciato 0 1 e al suo interno abbiamo la voce tracciato e non ci sono parametri e voi direte che ci facciamo con questa cosa bene se io adesso andassi a selezionare l'oggetto penna eccolo qua e andassi a cliccare su un lato del rettangolo faccio in basso così è visibile chiaramente devo selezionarlo ok seleziono prima l'oggetto in maniera tale che sia visibile ok ora dopo aver selezionato l'oggetto penna vedete che quando mi avvicino a un lato compare un piccolo più vicino alla penna questo vuol dire che io posso aggiungere un vertice clicco per esempio clicco ancora e sto aggiungendo dei punti questi punti posso muoverli ok quindi posso modificare il tracciato di questa forma geometrica bene dicevo perché è interessante perché accanto al tracciato 0 1 o meglio accanto al nome tracciato della proprietà tracciato 0 1 trovo un cronometrino io clicco sopra questo cronometrino anche se non ho parametri vedete che viene aggiunto qui un nuovo keyframe vado avanti di qualche frame e vado a modificare questi punti per esempio ingrandiamo così facciamo le cose per bene se non riuscite a riselezionarli premete V sulla tastiera e tornate al selettore normale ok premete poi G per attivare la penna ok ok riselezionate l'oggetto rettangolo su cui state lavorando a questo punto ripremete G e a questo punto potete riselezionare i vari i vari punti ok dicevo modifichiamo questi punti per dare una nuova forma al mio al mio a questo punto poligono non è più un rettangolo ok per esempio e guardate come viene aggiunto automaticamente un nuovo keyframe in timeline bene riavvolgiamo e guardiamo cosa abbiamo fatto allora abbiamo animato sia il colore perché avevamo animato prima il colore sia il tracciato che abbiamo potuto animare perché abbiamo trasformato questo tracciato in un tracciato di besie ok oh la cosa interessante ed è questo l'argomento di questo tutorial è che noi potremmo voler copiare i punti che compongono il tracciato di una stella sui punti che compongono il tracciato di un rettangolo in maniera tale da trasformare il rettangolo in una stella cosa vuol dire ve lo mostro immediatamente torniamo al punto di partenza al nostro rettangolo creiamo una stella ok strumento stella e la creiamo proprio sopra al nostro al nostro al nostro rettangolo eccola qua facciamo quello che abbiamo fatto col rettangolo ma questa volta con la stella quindi tracciato poligono stella 1 clicco col tasto adesso del mouse scelgo converti in tracciato besie e il nostro poligono stella a questo punto ha un tracciato come abbiamo fatto prima con il rettangolo a questo punto con il tracciato della stella selezionato vado su modifica e copia non è accaduto nulla ma ho occupiato i punti che compongono questa stella in memoria a questo punto io posso anche nasconderla la stella non mi serve più torno al mio rettangolo riseleziono il tracciato anche qua a questo punto inserisco un primo keyframe vado avanti modifica incolla ed ecco che il mio fantastico rettangolo di prima si trasforma automaticamente in una stella ok questa è una dimostrazione semplice di come sia possibile copiare i tracciati e incollarli su altri oggetti e creare semplici animazioni ora questa stella magari è un po' strecciata è un po' allungata non è proprio identica alla stella su cui stavamo lavorando prima probabilmente è rimasto qualche qualche punto aggiunto nelle nelle manipolazioni che abbiamo fatto all'inizio di questo tutorial non è importante quello che è importante è che voi abbiate potuto vedere come un oggetto una forma geometrica sia animabile a 360 gradi per adesso mi fermo qui l'appuntamento ovviamente al prossimo tutorial del corso introduttivo di After Effects www.fabbiambrosi.it li troverete ovviamente l'articolo di questa lezione oltre al corso di Premiere Pro se siete interessati iscrivetevi a questo canale YouTube mettete un like alla pagina Facebook Fabio Ambrosi condividete questi tutorial con i vostri amici passate parola e al prossimo video ciao ciao